La Murgia Cioè in una zona Vietata quasi a tutti Del pullo che riescono a vedere Cioè riescono a vedere un pochi Ma questa cosa qua mi affascina molto La Murgia come territorio si è formata Come roccia tra i 130 E i 65 milioni di anni fa Quando qui c'era un mare Cos'è cambiato Da 3.000 anni fa a oggi Il tessuto dei nostri abiti Ma la sostanza del mare La sostanza della terra La sostanza della pietra è sempre quella Ovviamente tutto questo Richiedeva del tempo Perché il lavoro manuale Cioè proprio Lì trovi l'anima della gente Che ci ha lavorato Le pietre Era il mondo dei pastori Ma noi non siamo più dei pastori Poi l'uomo a un certo punto Ha messo l'acceleratore E ha iniziato a correre A correre verso Un mondo astratto Bene Ciao Grazie I due Oh Avevi Stai girando Sure Molt unquote Grazie a tutti